ciao amici di termoli wild colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici tutte le persone tutti i professionisti tutti gli artisti che stanno abbracciando l'iniziativa io resto a casa con termoli wild con questo sto per presentarvi un nuovo concorrente un grande artista un amico che presta i suoi pezzi musicali da tantissimi anni a termoli wild signori e signori vi presentiamo mirko de filippo nome d'arte mirko zen ciao a tutti sono mirko de filippo conosciuto come mirko zen anch'io ho deciso di partecipare all'iniziativa lanciata da termoli wild io resto a casa mi terrò compagnia con le mie percussioni durante qualche diretta live sulla pagina facebook di termoli wild mi raccomando restate a casa questa guerra invisibile la sta vincendo chi sta lavorando per noi dall'altra parte la stiamo vincendo anche noi che continuiamo a restare a casa ricordatevi una cosa amici un vincente nella vita trova sempre una soluzione una strada per arrivare alla vittoria un perdente un bugiardo ed una versione egoista rimarrà sempre un parassita della società questa guerra la vinceremo solo continuate a seguirci e continuate a restare a casa alla prossima in 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 Grazie per la visione!